Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, tanto per cambiare, ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria. Allora, questa sera risponderò ad una richiesta piuttosto inconsueta, che mi aveva anche abbastanza colpito, che mi è stata fatta qualche tempo fa. Ho dovuto ritrovare la mia fonte cartacea, che ne parlava, perché, insomma, trovare le cose qua dietro è un po' un casino, siamo sinceri. Mi è stata fatta una richiesta piuttosto inconsueta, perché? Perché mi era stato chiesto di parlare di un aereo italiano pressoché sconosciuto, perché è costruito in pochissimi esemplari, perché entrò in servizio, diciamo, in quantità limitatissime, di un aereo decisamente poco noto, di un aereo che però fece il suo piccolo ruolo nella guerra. Mi hanno chiesto qualche tempo fa di parlare di questo aereo, questo qui, questo che vedete nella foto, tratto da Aerei nella storia numero 72 del giugno 2010, l'articolo di Daniele Lembo che parla del Fiat CR25, un bimotore nato come caccia pesante sulla scia del Mesher Smith 110, un caccia però decisamente strano perché aveva tre uomini di equipaggio, un pilota, un operatore radio motorista e un mitragliere, e una stivabombe da 700 kg, stivabombe che però durante il suo servizio operativo non fu praticamente mai usata. Un caccia che era armato con, vabbè, due, le solite due mitragliatrici, Breda Safat a prua, una mitragliatrice, Breda Safat, sempre da 12.7 in torretta, un aereo che, come dire, avrebbe dovuto essere un caccia pesante, ma in realtà le prestazioni erano tutt'altro, le prestazioni velocistiche erano tutt'altro che esaltanti, e quindi diciamo che fu utilizzato per tutt'altri scopi. C'è da dire una cosa, il CR25, eccolo qua, ripeto, ve lo faccio vedere, qui c'è anche il Tre Viste, eccolo, eccolo qua, questo è il Tre Viste del CR25, il CR25 fu un buon aereo, oggettivamente, robusto, affidabile, molto amato dai piloti per le sue buone qualità di volo, un aereo che avrebbe potuto fare di più, come dice l'articolo di Lembo, ma, 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 come sempre siamo in Italia. Vi ricorderete che qualche tempo fa ho parlato del Valti Vengeance, ok? Un aereo, praticamente di scarto, costruito in più di 2000 esemplari. Oibo, a testimonianza del potenziale bellico degli americani, del potenziale industriale bellico degli americani, ok? Il CR25, che, diciamo, nato, ripeto, nato come caccia pesante, fu convertito al ruolo di ricognitore marittimo, caccia sumergibili e scorta con vogli. Aveva ottime qualità di volo, ripeto, era un aereo che volava bene, un aereo affidabile, un aereo robusto, un aereo molto adatto al ruolo, ma fu un aereo costruito in un totale di 20 esemplari e non ne furono mai messi in servizio più di una decina. La 173esima squadriglia autonoma da ricognizione marittima fu l'unico reparto ad avere in dotazione il CR25 e lo ebbe in servizio dal 1941 fino al 1943 inoltrato, mai in più di nove esemplari insieme, molti dei quali furono cannibalizzati per fornire pezzi di ricambio agli altri, insomma, per mantenere in efficienza alcuni aerei. Perché, insomma, siamo sinceri, il CR25 era un aereo che gli equipaggi consideravano molto molto bene, un equipaggio molto amato dai piloti, che volava bene, che era molto adatto al ruolo di ricognizione marittima. Se vogliamo, come filosofia costruttiva, era più o meno equivalente all'inglese Bristol-Blenheim, tanto per fare un esempio. Prestazioni velocistiche non esaltanti, affidabilità sicuramente a prova di bomba, adattato al ruolo di ricognitore marittimo, scorta convogli e caccia sommergibili, ma, 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 fu una buona soluzione di compromesso, perché, ripeto, fece la sua parte in guerra, ma oggettivamente i numeri erano assolutamente risibili. Il CR25 fu vittima, se vogliamo, della mentalità, della cosiddetta, di quella che io chiamo, la cosiddetta dottrina Valle, ovvero sia il generale Valle, sostituto di Balbo alla guida della regia aeronautica, si mise in testa di ordinare tante piccole serie di aeroplani nella speranza di azzeccare, di pescare l'asso di briscola, se vogliamo, ovvero sia di pescare, tra i tanti tipi, un aereo talmente superiori, dalle caratteristiche talmente superiori, talmente, come dire, elevate, ecco, non mi viene un altro titolo, che, come dire, avrebbe dovuto poi essere costruito in massa, ma, ma, che cosa accade? Accade che aerei anche validi, ripeto, anche validi, come il CR25, che, ripeto, si rivelò essere un buon aereo, eccole qua, altre foto, altre immagini, e il CR25 si rivelò essere un buon aereo da ricognizione, un buon pattugliatore barittimo, un buon aereo da scorta convogli, perché era quello che serviva, un aereo robusto, un aereo di semplice manutenzione, un aereo facile da portare, da mantenere in linea, ma, ahimè, ahimè, la dottrina Valle lo ammazzò praticamente in culla, perché non, cioè, come dire, perché non c'era la possibilità fisica di costruirlo, proprio a causa dell'eccessivo numero di piccole serie di tanti prototipi che Valle si intestardiva a far costruire, nella speranza di trovare nel mucchio un aereo valido. Che vi devo dire? Cioè, io non voglio infierire sul valore dei nostri aviatori, ma permettetemi di dirne veramente quattro a quelle belle teste che li comandavano, cioè Valle, cioè Valle, gente, siamo sinceri, Valle, 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 uno, uno, che non volava, cioè, aveva volato sui dirigibili, non ne sapeva niente di aerei Valle, sinceramente, e si è visto con la sua terrificante, cioè, con la sua dottrina, tante serie di prototipi costruiti in piccoli numeri, nella speranza di azzeccare l'aereo giusto e soprattutto di non scontentare i grandi gruppi industriali. anche. Poi, vabbè, che vi devo dire, il CR25, la sua guerra l'ha fatta, una guerra nella quale ha contribuito in maniera veramente molto minore, perché oggettivamente non ebbe mai più di nove esemplari in, la 173esima squadrilla autonoma, l'unico reparto che lo ebbe in dotazione, non schierò mai più di nove aerei, più di nove CR25 insieme. Che impatto poteva avere una squadrilla di nove aerei nel carnaio del conflitto? Cioè, ricordiamoci che nello stesso periodo in cui noi tenevamo in servizio i nove CR25, gli inglesi sfornavano qualche migliaio di Bristol-Boford e qualche altro migliaio di Bristol-Boford che svolgevano gli stessi compiti. Il confronto oserei dire che è decisamente impietoso tutto qua. Ripeto, l'aereo era buono, l'aereo era decisamente decisamente valido, era, ripeto, molto ben considerato dai piloti, era un aereo, era un cosiddetto, era sì, un cosiddetto pilot's plane, un aereo piacevole da far volare, un aereo adatto al ruolo di ricognitore, di cassa sumergibile e di scorta convogli. Ma siamo sinceri, che cazzo volevamo fare con il nove CR25? Penso che la mia faccia la dica tutta, tutto qua. Quindi, cari signori, io posso solo dire che un aereo onesto, un aereo valido, come dice giustamente Daniele Lembo nell'introduzione al suo articolo, un bimotore che avrebbe potuto fare di più se solo non fosse stato ammazzato in culla dai deliri del generale Valle. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.